ce l'ho, ce l'ho la banana, però ce l'ho diversa ce l'ho diversa la banana ah bello, va bello c'ho questa ho ripito con questa ma ragazzi può andare ma sei tu questo qua che mi ha messo mi piace marica e leopardi, no? oppure laimo e scolobu allora faccio una cosa, guardi il primo video che sto facendo e ci sto mettendo un commento così lo visualizzi subito ma è del primo o del secondo account? è quello che ti ho detto ora ma non ti trovo no no, è una cosa ascoltami vai su mio primo video, su quello là che ti ho scritto Gabriele e scrivo un commento con l'altro profilo ora sto scrivendo ok, sul primo quello là bugato quello là dove c'è il corridoio è il primo di tutti ho scritto un commento con l'altro profilo non l'hai scritto? si l'ho scritto adesso non hai scritto niente ho scritto ciao ci dovrebbe essere scritto no 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 io ho scritto un commento lì no 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 ma vabbè, ragazzi faccio ragazzi si dice che ho parlato di Gabriele, giusto? io sul primo commento l'ho fatto sul primo video ho fatto soltanto un commento ci ho scritto, ho scritto Gabriele Retro con la faccina ah ma vado a questo dove c'è il 1920 si vabbè l'ho scritto io ho scritto sia ciao come compri равно non hai perché è scritto ciao a tutti vi farò divertire con le canzioni più pazze del secolo perché il cuore boh becchiamo mille poi stranger teams in limon b brown tutti mi scrivono ma guarda nei commenti quello di stranger teams ragazzi ma voi ci siedete la play quando ci capodanno ma perché siamo tutte le banane adesso prima di paolo ma che caspita rima manco me ne racconto ma cosa ci stai che facciamo raggio così io sì io sto io sono la play con questo stai io lo spiego il cozzo no tanto non devi spegnere che c'è la mezzanotte no perché c'è capodanno fra infatti fino alla mezzanotte si festeggia a che ha eccedito a me hai ho capito quella che in dio non c'è tutto non ci credo o qualcuno aspetta facciamoci un gruppo come ragazzo ma sono un pro player ma solo da pc ma quelle varie sono una bestia vai 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 mario io tutto a posto ciao dai ma aia che capran ti vuoi grazie grazie vecchio di macchina c'è una cosa che ti devo dire riccardo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ora fa una tante grepezzina è abbastanza no 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 te lo ricordi te lo ricordi riccardo vero cosa quando ti ho fatto scoppiare col tuo amico ah si era bellissimo abbiamo messo in youtube un video tranquillo io ti ho fatto esplode tu mi faccio esplodere e poi e poi non mi ha detto ma è lo scoppiato capri quando eravamo lì te insieme si 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 tu te ne scappavamo oh perché per chi ti spari temo che ti ho fatto al vero finchio un cilindro vabbè un matzo oh matzo oh facciamo cd struppiti io sono full hd 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 c'è che sta battendo le mani cacca le dita godo tutta la vita io io batte le mani cacca le dita godo come ricca mamacita mamacita ho letto che alexa volume 7 anch'io ce l'ho detto io ok ma si vuole una città ciao come stai tutto a posto un attimo grazie che posso fare per te e sparati no fai le sei che cosa è autodistruzione auto per farlo basta cercare gabriel metto anche canzone eh metto anche canzone no no riccardo fai una cosa mettici quello là per favore cosa per favore fa lo fallo per me eh lo metto dopo va bene lo metto dai ci sta questa volta eh vai 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 vuole vuole fare tu pronti raga dovete lì vai 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 ruchhh ca mi troppo 4 fu mi troppo 4 buoni 5 Oh, si sta scassando tutto il microfono Luigi! No, dammi manco il plotter Eh, non lo posso prendere, tanto sono fulvio Ma guarda, ma guarda, Affianza C'è una medusa, va la scossa mi sto prendendo Haia, che male, haia La schiena, salvami Per favore, ah, grazie Una più medusa Che è un, è D 없습니다 Alla scatenare Guarda, guarda ti do un goppo secco sforzati addio d'oro che ho sempre così fate cose erano tome core ma che lucia usciva voce ha fatto da un voto di vera scusa lo sport anche abbia pescato babbo natale io ho trovato tutte le skin e io una bestia una rana questa scala per il paradiso questa è la stessa cosa ascoltate che c'è la cinema che c'è qua sono presente professoressa sono arrivati in ritardo ha fatto un appello pepe niente le tende damiano no ascendo rime ottimo spray cazzo troppo no ma lo sai che io devo dire ma tanto che non c'è la sua scuola stanno ammazzando aiuto devo salvare torino però nello zaga chi è che urla e io ci vediamo ok pensavo un osso un osso bruno oggi mi ha fatto mio fratello vi ho detto quando si svegliava osso bruno perché vai le tante donne tutti i giorni o come e domenica il giorno 8 bruno sveglia di buongiorno da mondello c'è un regalo di natale sotto la ragazzo ma ragazzo ma sapere al messo per terra andiamo a casa tirata ragia mi date colpi io c'ho delle band colpi di questa mi salta io ne ho fai se ce l'ho io ti do anche materiali io non lo uso però regalo io faccio sempre così ragazzi racconto so come una minchia perché qua sotto che è gridata ah non si dicono le parolacce quello là è quello là io chiamo a polizia ora ora faccio l'imitazione di 189 non lo spaccafotto prima ti ricordi non lo ricordi ma ne hai mazze capri io te lo dati tutti ma chi sei tu in questo vieni qua ma tu ti te lo dati ragazzi ci vuole banalite che c'è un ammazzo prendi ma io non li uso mai mi voglio io ragazzi mi ricordo che cassa sono una banana costruttrice cassa vango mat adesso io metto qua e farò il cerchino torri oh mio dio aiuto ci sono tre banane mangiata una dory io voglio ballare ah che è nemo ma ci fa male la pancia da sopistato io no da diciamo un gran gullande per farlo no perché sono morto e c'è uno mi è curato male che fai non ti nasconde vieni qua andiamo in guerra va andiamo le banane dove c'hai banane in pigiama che scendono le scale te lo ricordi ragazzi comunque facciamo le bananine ancora non ce la facciamo riccardo condoianze no no cosa che c'è a fare venire chiacchia di noi condoianze riccardo ti ho sempre voluto bene se tu te ne vai andano come ti possiamo salvare mai tu te ne vai di bello squisata con caputana la prima vuole diventare il vero l'esploratrice capi riparati 18 12 10 6 4 2 aiuto a che cazzo fai chiamate favorito visto l'uomo nero era che spai è lei sta volando è morta è morta e poi ho fatto un punto c'è scritto l'ho ammazzata io c'è scritto beh ma che c'è la corsa di 200 labbroni è che c'è il miele siamo c'è miele non c'è miele mi viene qua mi aiutate per favore stavo camminando tipo cagnolino va un po attento è lì è lì fare chi tirati ce n'è un altro tirati eccolo pupi la vida questa 5 strisci la triscia vincere la notizia speciale diciamo oggi no raga la banan alfa perso chi era cappuccetto rotti giulsa tutti giulsa un piso creativo voglio fare che addio perché sono divendo gredino prende un cucina uccido bambino io lo chiamo gradiva sembra di un bambino chiamano gradino gradiva io porto cammello tutti ci pisello che belli che siamo tutti queste banale quando la mia conoscenza di condor che le skin andy mettiamo tutti la schiena va bene ma prima mi faccio vedere la schiena è più rara del mondo io metto quello posseduto auto blu cirocone meno fra lei mi sono io nel messa la l'emesa in città non quello zio del super morta ecco qui c'è il mio frate che arriva 15 minuti si vogliono la pizza 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 si balla con la musica rock via la canna per sempre mi capa la pipì mi capa la pipì il ballo del portico papa il ballo di tano faccio il mondo che è a bomba a bomba a bomba a bomba lucio è lucio è lucio è lucio non fare arrived non donne è arrivata una latina era dell'arodino a rotta cos'è un mismizzeri agli acchi male carotina super bib che ci fai qui Dove Dove Questa scat Era lei andando sotto i ricordi Azzuaglia 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 Azzucarli Azzuaglia Gettì Azzucarli Raga metti una mappa che nessuno più usa Metto Amy Si vai mettiti Cosa Raga ho creato io sono a Praga fate lo creato io sono a fa guidati leader Riccardo dammi leader Happy 2021 ciao 21 ciao 20 ciao happy a voi salutami no sono andato dentro la mappa a caso guarda che ho messo la idea scusatemi muovi di Gabriee vabbè abbandonava muovi di Gabriee io mi muovo ma non mi vedo muovi di Gabriee io mi muovo ma non mi vedo muovi di Gabriee muovi di Gabriee vediamo dopo Riccardo torna da giocare con Ludovica ciao 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 ciao